Musica Oh si che bello che siamo al centro commerciale oggi da soli Si 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 Sicuramente Maggerò un gelato enorme Magari con 4 o 5 palline di gelato Anche io ne voglio uno Sono sempre così buoni qui Ma guarda Julian cos'è quello Oh no no Guarda che coda davanti al centro commerciale Ma non è possibile Ma come mai è così pieno Ma non è possibile Oh da quanto bisogna stare in coda Oh no 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 Ora non faccio mica la coda per andare al centro commerciale Ma che cosa Ma non è possibile Ma perché c'è una sbarra Come una sbarra Non possono entrare Ma di solito c'è per le macchine Ci sono dei controlli E' tutto Tutto molto strano Si si è tutto troppo strano Ha qualcosa con gli schnoes Sicuramente a che fare Sai cosa ti dico No mi metto sicuramente ora qui A fare la coda Ora andiamo davanti Guardiamo cosa sta succedendo Oh no 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 Mi dispiace Ma questi vestiti Non puoi entrare Oh no no Scordatelo Oh ma non è possibile Sono sempre venuta Vestuta così Ora non posso No Non puoi Mi dispiace Sono la proprietaria Quindi decido io Che puoi entrare No 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 Magari domani Se si veste in un modo diverso Ma così non puoi entrare Oh Niels Sono così orgogliosa Sei così bravo Sai gestire benissimo Questo centro commerciale Così che sia un centro commerciale Di lusso Oh ma non è possibile Controllare il centro commerciale Da 30 anni Che ci vengo Ora vengo controllato Oh ma non è possibile Ora vengono mandato via Solo perché Ho un top Che non è moderno Cosa Scusa Perché Non posso entrare Beh lo potete spiegare Con la volta Mi dispiace Mi dispiace Ma se guardo il suo outfit Costerà Non lo so Meno di 50 euro E deve costare almeno 150 Per entrare qui No 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 Non entra così Ehi Niels Ma cosa sta succedendo qui Sei per caso impazzito Perché c'è questa fila Ciao Julian Certo Pensavo che sareste arrivato anche tu Prima o poi Comunque Stiamo facendo i controlli Di entrare Possono entrare Le persone Se sono Abbastanza buone Per questo centro Abbastanza belle Abbastanza ricche Quindi per favore Vale anche te la coda Tra poco controla anche te Ma cosa Ma cosa stai dicendo Sei per caso impazzito No 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 Non esiste Che tu mi controlli Che tu decido Se si possa Non si possa Entrare al centro commerciale Ma fa pure Non mi sorprende da te Queste cose strane Oh questa famiglia Fog L'arriva di nuovo Lo sapevo E poi comincia a comportarsi così Ma cos'è Qual è il problema Sto aspettando Una dieci minuti E si va avanti Oh andai Julian Guardate state Intralciando Tutto il traffico Oh sono importante Non lo sapete Oh no Non è possibile Così non è più nemmeno divertente Andare al centro Il gioco commerciale Quando Oh vabbè Dai vieni Facciamo la coda E vediamo di entrare Velocemente Mi dispiace Sono parenti Ci continui subito Sì La giacca I capelli Come i pantaloni Oh quelle scarpe Oh no Vabbè Chiudo un occhio per oggi Prego Potete entrare Buon divertimento Ma cosa fate qui Ma cosa fai giovanotto Non capisco Non sono al centro commerciale Oh un momento Oh un momento Devo solo Tirare giù un attimo Con questa sbarra Lo vedo Ma mi dispiace Ma con questo outfit Non entrerà sicuramente Di quant'era Di 40 anni fa Lo portava sempre mio non Ah nemmeno mio nonno Oh non è possibile Li metto tutti i giorni Questi vestiti Eh si sono da anni E da anni E allora non posso Entrare al centro commerciale Cosa devo mettere Delle scarpe da mille euro Sì per esempio Niels Dai questi sono Vestiti tradizionali Puoi farlo entrare Ok Mia mamma È stata un giorno Un po' gentile con lei Buon divertimento Oh ma come si può Esagerare così Ma non è possibile Ma non lo so Non capisco nemmeno io Mi sta davvero dando fastidio Questa cosa Un controllo D'ingresso Al centro commerciale Ma non esiste Ma non esiste Ehi bambini Sentite un attimo Anch'io con questo vestito Sono stata mandata via Penso che dovete Cambiarvi Se volete entrare Sì Grazie per il consiglio Ciao Julian Hai visto quella signora È un gran bel vestito Lei non poteva entrare Quindi Come faremo Entrare noi Oh sì Prego Avanti Oh Guarda Julian E Anna Fogger E ora cosa faccio Con voi Vi faccio entrare A voi faccio Fuori Fuori Per i nostri vestiti Non devo dire nulla Ve l'ho detto già Altre belle volte Non lo so Vabbè ok Siete parenti Quindi per oggi Vi faccio entrare Ma la prossima volta No eh Beh Un divertimento Centro come challenge Compratevi nuovi vestiti Per favore Oh finalmente Quanto ci voleva Oh meno male Anche Anna mi compra Di nuovi vestiti Ma nemmeno io Ma Ma Guarda Dove è finito Dove è finito Alla gelateria Julian Oh Oh Non ci crederei mai Guarda Era sempre qui No Ora c'è Un negozio per le torte Oh no La mia gelateria Dove è finita Nils Nils No Sono venuto qui per niente Ho fatto una fila Aspettato Magli ho il gelato Nils Sai che se dico Ora sto qui E mi rialzo Quando ti arriva Alla gelateria Julian Alzati per favore Oh Sì Ok Ok Sì Salve Avrei una domanda Sembra normale Che non ci sia più Una gelateria Ora qui Eh Sì hai ragione Anch'io Sono sempre venuta Molto ventiere A questa gelateria Ma anche la torta È buona Vi sono Non siamo gli unici Che non lo trovano Molto carina Come cosa Dobbiamo Dobbiamo fare qualcosa Dobbiamo urlare E chiamare E dobbiamo andare Da Nils Julian Calmati Calmati No Magari possiamo andare A un'altra gelateria No No Non voglio Devo dirlo a Nils L'ho sempre mangiato qui Il mio gelato E lo farò anche oggi Io voglio al gelato Io voglio al gelato E la voglio ora Io voglio al gelato E la voglio ora E Nils Lo deve portare E Nils Deve andare Voglio al gelato E adesso Ok Io voglio al gelato E adesso Io voglio al gelato E adesso Oh ecco ecco Se li faccio entrare C'è solamente Oh sì Sicurezza Sì abbiamo un problema Sì sì Davanti al negozio di torte Sì Non mi interessa Se sono bambini Li conosco Sbutateli fuori Voglio al gelato E adesso Voglio al gelato E No mi dispiace Niente manifestazioni Quindi ora siete Pregati di andar E non potete più rientrare Divieto d'accesso Per sempre Oh ecco Lo sapevo Nils Sempre il solito E ora non possiamo più entrare Non è possibile E non potete più rientrare